Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi ci proviamo un fondotinta e un correttore di Urban Decay è tantissimo che non provo insieme a voi un fondotinta, vi sono mancati questi video, vi ricordate che un po' di anni fa ne provavo uno a settimana? come vi dicevo oggi proviamo fondotinta e correttore di Urban Decay della linea Stay Naked che dovrebbe essere quella che lascia un pochino di più intravedere la pelle, che risulta un pochino più naturale e portabile perfetto per chi vuole un look più fresco e leggero entrambi i prodotti mi sono stati mandati dal sito di Look Fantastic e proprio per questo ci tengo a ricordarvi del codice sconto che si applica su tantissimi prodotti il codice è Giulia Trend, su alcuni brand e prodotti non si applica, su altri si, su altri vi da un piccolo sconto, su altri è uno sconto aggiuntivo a quello che già vi offre il sito siccome la questione è parecchio complicata, la soluzione è quando fate un acquisto andate nel carrello, applicatelo e vedete lo sconto che vi fornisce iniziamo a parlare del fondotinta, si chiama appunto Stay Naked Weightless Liquid Foundation e dice che possiamo indossarlo che tiene fino a 24 ore adesso non lo porterò per 24 ore, però se è a lunga tenuta la cosa ci piace tantissimo questo prodotto è anche vegano, io ce l'ho nel colore 10WY il packaging all'interno è molto carino, non è un prodotto nuovo, so che in tantissimi già l'avete visto ma a me questa tipologia di fondotinta piace tantissimo e quindi ci tenevo a provarlo, è fatto in questo modo, guardate un po', è leggerissimo anche come confezione ed è molto particolare perché qui è tipo scavato, è veramente strana come bottiglietta ma molto carina è disponibile in tantissimi colori, fatemeli contare sono ben 50 colori, sicuramente troverete quello adatto a voi, andiamoci a leggere anche che cosa ci promette per confrontarlo poi al risultato leggero e arioso il fondotinta opaco, permette alla pelle di respirare lasciando un velo leggero nella sua scia vabbè questo è tradotto un po' dall'inglese sul sito l'aspetto dei pori dilatati e delle imperfezioni è minimizzato rendendo il fondotinta ideale per gli amanti del trucco naturale però questa cosa ci dice anche che potrebbe essere uno dei quei fondotinta che dà un po' l'effetto levigato stessa cosa anche qui sulla bottiglietta, leggero, finisce opaco, minimizza l'aspetto dei pori ci dicono anche che è waterproof e che è no transfer potrebbe essere l'ideale anche con il fatto che ci andiamo ad indossare poi la mascherina iniziamo ad applicarcelo, come al solito ho paura di sporcarmi il maglione bianco lo mettiamo su metà del viso con la spugnetta e sull'altra metà con il pennello molto molto liquido come formula, guardate già come goccia appena tocca il viso di qua ce lo andiamo a mettere con il pennello e utilizzo il 213 di Real Techniques potrebbe anche essere che questo colore è troppo chiaro per me ragazzi ma mi sono scurita nel tempo o è solo una mia impressione? perché a questo punto vi dico che il colore più scuro sarebbe comunque potuto andare bene guardate che è molto molto leggero, cioè sembra quasi una sorta di BB cream è vero che il colore risulta leggermente più chiaro ma poi una volta sfumato sulla pelle è talmente leggero e fresco che neanche si vede più di tanto devo andare leggera sul naso e sulle labbra perché non so se avete visto le mie storie questi giorni ho fatto il ritocco di rino filler e lip filler se non sapete di che cosa sto parlando vi lascio il video in cui ne parlo nella descrizione perché non voglio riattaccarvi un super discorso al riguardo messo si sfuma benissimo, dà un finish opaco ma allo stesso tempo non si asciuga completamente almeno per il momento il colore, sì un colore più scuro l'avrei preferito ma questa è mia colpa adesso mettiamocelo di qua con la spugnetta con il fatto che è così tanto liquido potrebbe non essere l'ideale applicato con la spugnetta perché la spugnetta assorbe i liquidi e di conseguenza potrebbe mangiarsi il fondotinta lo sfumo velocemente perché mi sembra che si asciuga abbastanza in fretta vi dico già da subito che secondo me si applica molto meglio con il pennello cioè si riesce a sfumare molto più velocemente anche se allo stesso tempo con la spugnetta si applica comunque bene forse la spugnetta lo rende leggermente più coprente sì, sì, adesso mi guardo anche da vicino però vedo anche il colore che risulta un pochino più forte da questa parte che da quest'altra entrambe le parti si sono asciugate, è passato circa un minutino e guardandomi anche da vicino non si nota quasi per niente la differenza da questa parte mi sembra che mi sta leggermente segnando magari di più qui nella zona della fronte quando faccio così ma è proprio una roba impercettibile potrei andare ecco con la spugnetta a tirarlo l'effetto che mi dà è molto simile a quello di una BB cream non è sicuramente un fondotinta per chi cerca un effetto molto coprente poi lo vedete, ho un sacco di brufoletti in questa zona, quella della mascherina maledetta non ha coperto praticamente nulla ha proprio leggermente attenuato il rossore ma non ha coperto niente anche di qua ho dei piccoli segnetti da vecchi brufoletti e comunque sono lì ce lo proviamo a mettere un po' di più dai sì proviamo così capiamo anche se risulta stratificabile andiamolo a pressare proprio in questa zona con il pennello un pochettino si riesce a stratificare ma comunque l'effetto che ottenete è veramente veramente leggero passiamo al correttore, è disponibile in 24 colori, costa 26,45€ non vi ho detto il prezzo del fondotinta prima che è di 35,45€ anche qui la scala colori è bella ampia anche qui sicuramente riuscirete a trovare il colore perfetto per voi anche questa è una formulazione vegana adesso ce la andiamo anche ad aprire per vedere com'è all'interno il colore che ho scelto per il correttore è il 10NN ed ecco anche la confezione del correttore anche lei è molto leggera forse l'hanno fatto apposta proprio per ricordare il fatto che questi prodotti sono leggeri sulla pelle vi leggo direttamente qui sulla confezione che questo ci dicono che è stratificabile fino a una coprenza alta vediamo perché potrebbe essere carino fare una base leggera e poi andare con il correttore più coprente solo dove ne abbiamo bisogno anche lui è flessibile, lascia respirare la pelle è no transfer e ci dà un effetto di pelle vera effetto pago corregge le imperfezioni anche lui è waterproof l'applicatore è particolare leggermente diverso da quello degli altri correttori vediamo se si vedrà boh speriamo di sì partiamo da questi segnetti giusto per capire che tipo di coprenza ci dà e me lo vado proprio a mettere così preciso solo dove voglio aggiungere coprenza con tutti i brufoli da mascherina che ho praticamente ovunque fare prima a fare così su tutta la zona della mandibola e andiamocelo a tamponare con il dito in modo da ottenere la coprenza più alta possibile ma allo stesso tempo sfumare il correttore volendo potreste anche utilizzare un pennello e andare a picchiettare il correttore in questo modo e poi sfumare i bordi anche lui si asciuga abbastanza in fretta andatelo a lavorare non lo lasciate lì per tanto mentre chiacchierate mentre fate altre cose andatelo ad applicare e a sfumare subito come coprenza anche qui direi una media non è proprio altissima se ci fate caso comunque le bollicine si vedono anzi ve lo zoom da vicino così riuscite a vedere benissimo l'effetto vedete qui non sono neanche riuscita a sfumarlo benissimo proprio perché si asciuga molto in fretta passiamo alla parte che ci interessa più di tutti me lo metto su un occhio alla volta così vediamo la differenza lo metto qui sulla parte centrale anche un po' qui sulla palpebra così mi va a fare da base per l'ombretto e poi me lo metto così almeno mi dà un bel effetto lifting vado con la mia spugnetta e inizio a sfumarlo il colore va abbastanza bene forse anche qui in qualcosa di leggermente più scuro sarebbe andato meglio si sfuma abbastanza bene dovete essere un po' veloci perché si asciuga in fretta e sinceramente non mi sembra che dia tutta questa coprenza che ci promette di dare vedete che questa parte qui dell'occhiaia sta risbucando fuori proviamo a fare un secondo strato ci piace che il correttore sia bello naturale e tutto quanto però un pochettino ci deve aiutare con l'occhiaia sicuramente se avete un'occhiaia bella potente bella scura da correggere non è il correttore che fa per voi molto più indicato se avete un'occhiaia leggermente accennata e cercate giusto qualcosa che illumini intanto faccio l'altro occhio e lascio asciugare la situazione così capiamo che succede quando si asciuga il correttore primissime impressioni un po' troppo leggero per i miei gusti e poi non è che abbia quest'occhiaia così scura e così pesante e anche su di me non è che fa un buonissimo lavoro se ci fate caso il mio contorno occhi non è che sembra bello fresco e riposato comunque la situazione non è corretta al 100% a questo punto vi dico che pensando ad esempio al correttore di neve cosmetics che è uno degli ultimi che abbiamo provato insieme costa molto di meno scusate sta passando anche un aereo forse sentirete un po' di casino preferisco molto di più lui rispetto a questo finisco il mio trucco ci vediamo tra una mezz'oretta così lascio che i prodotti si asciughino tutti per bene faccio una piccola pausa mentre sto realizzando il mio trucco perché voglio provare una cosa con voi il correttore per me ve lo dico già da adesso è proprio un no però tra un po' vi dico tutto quello che penso guardate un po' le mie occhiaie non sono coperte per niente cioè sembra veramente che io stanotte non abbia dormito comunque si vede che c'è un po' di roba sopra proviamo ad usare una di queste polveri chiare illuminanti vado direttamente con la spugnetta a prelevarne un po' e a tamponarla sulla zona dell'occhiaia perché per me questo è cioè proprio come se non avessi quasi applicato niente si vede che c'è qualcosa che non va ma anche questa volta vedo che comunque già il correttore non avendo abbastanza coprenza di base comunque un po' vedete che l'occhiaia c'è lo stesso eccoci qua con il trucco terminato tra l'altro ho provato una palettina di zoeva che è questa qui con sei ombretti che è carinissima mi è piaciuta tantissimo ho fatto questo trucco proprio velocissimo e mi piace un sacco a parte questo che cosa ne penso dei nostri fondotinta e correttore mi sono piaciuti non mi sono piaciuti che problemi ho avuto partiamo dal fondotinta ovviamente vi aggiornerò a fine giornata perché bisogna assolutamente vedere poi nell'arco delle ore come si comportano per il momento il fondotinta devo dire che è carino molto molto leggero non vi aspettate un fondotinta coprente che vi vada proprio ad uniformare il colore della pelle e a nascondere i brufoletti no questo è un fondotinta che uniforma un pochettino il colore della pelle secondo me è carino per le persone che hanno una pelle tendenzialmente grassa perché generalmente tutte le varie BB cream e fondotinta leggeri tendono a farli idratanti e luminosi che sono più adatti ad una pelle normale secca questo invece è molto più adatto ad una pelle che tende a lucidarsi proprio perché dà questo effetto che è comunque opaco e proprio per questo su di me non è adattissimo trovo che leggermente mi secchi la pelle perché la mia è più normale ma per questo riesco a dirvi che su una pelle grassa si comporterà molto meglio carino vediamo se si lucida a metà giornata fine giornata il correttore per me ve lo dico già da subito bocciato ah un'altra roba che vi devo dire del fondotinta mi ha dato qualche leggerissimo problema per sfumarci sopra poi terra e blush non sono riuscita a sfumarli perfettamente ma questo è dovuto proprio dal fatto che la mia pelle ha bisogno di qualcosa che sia un pochino più idratante anche per questo riesco a capire che su una pelle grassa sicuramente si comporterà molto molto meglio il correttore non mi è piaciuto troppo leggero non va veramente a coprire nulla il fatto che sia anche lui con finish opaco non mi rende poi il contornocchi così fresco idratante come invece avrei bisogno che sia anche sulla zona qui della palpebra mi dà proprio un effetto brutto perché si vede che va a seccare la zona per me il correttore è un no anche sui brufoletti non è che abbia fatto poi il suo lavoro e tutta questa coperanza alta per il momento è tutto ci vediamo o a metà giornata o se non succede nulla direttamente a fine giornata 12 ore dopo eccomi qui con la mia vestaglietta da sera perché stasera fa proprio freddo e anzi non riesco neanche ad attaccare per bene il microfono infatti lo terrò così cercando di non fare rumori strani che cosa ne penso di questi due prodotti dopo averli tenuti sul viso per così tanto tempo partiamo dal correttore non c'è bisogno che io aggiunga assolutamente nient'altro il prodotto non si è mosso è rimasto lì ma sinceramente a me non è piaciuto per me il correttore è assolutamente un no neanche per coprire le bollicine stasera mi sono proprio risbucate tanto tanto di fuori quindi per me il correttore è proprio bocciato mi dispiace perché in realtà in passato ne ho sentito parlare veramente bene quindi speravo di aver trovato qualcosa che invece mi piacesse molto passiamo al fondotinta perché vi dico che su di me non mi è piaciuto con un grandissimo ma non mi è piaciuto perché la mia pelle è rimasta un pochino secca e asciutta fino a stasera non ho fatto ritocchi è stata una giornata molto impegnativa anzi prima di preparare la cena ho fatto anche qualche squat giusto per farvi capire che comunque mi sono mossa la base non si è lucidata proprio per niente è rimasta praticamente perfetta l'unico caso in cui vi consiglio di acquistare questo prodotto è solo se volete proprio dare un effetto leggerissimo di pelle uniformata sul viso e ovviamente se avete una pelle grassa spero che questa recensione video test vi sia piaciuto fatemi sapere se siete interessati in questi prodotti se li acquisterete se li avete già provati come vi siete trovati insomma scriveteci anche la vostra recensione barra opinione li stavo fiondando per terra nei commenti io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato se il video vi è piaciuto vi è stato utile vi ha fatto compagnia mettete un pollicione all'insù un cuoricino iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimissimo nel prossimo video ciao